8 risultati utili di fila e nessuna intenzione di fermarsi, radiografia di un Monopoli che corre verso la salvezza coltivando la miglior posizione possibile in chiave play-out dopo aver agganciato il Catani in quintultima piazza e sperando di tenere oltre i 9 punti, oggi sono 11, il vantaggio sul Monterosi penultimo, circostanza che comporterebbe la conferma della categoria senza dover passare dagli spareggi. Merito della vittoria per 1-0 in extremis sul campo del Giuliano firmata da Cristian Tommasini, proprio l'attaccante e il grande punto interrogativo nella settimana che porta alla sfida del Veneziani contro il Taranto, sua ex squadra. Nel finale di gara ha infatti accusato un'infrazione al retto femorale, resta in eredità la fiducia trasmessa ai compagni dopo la vittoria. Però ci abbiamo altre tre partite che dobbiamo affrontare come quella di oggi e sono convinto che faremo punti. Ora ci abbiamo tutto nelle nostre mani, siamo artefici del nostro destino perché ci aspettano tre partite importanti che però dobbiamo affrontarle a petto in fuori con la consapevolezza di essere una squadra forte, organizzata e che vuole fortemente la salvezza diretta. Conteranno tanto le sensazioni del diretto interessato, intenzionato a stringere i denti per sfidare il passato ma consapevole al tempo stesso dell'importanza degli incroci successivi con Crotone e Potenza. Roberto Taurino può confidare su un'infermeria quasi vuota che comprende il solo Fazio. Domenica sera torneranno a disposizione dopo la squalifica a Forna-Sierre e Sosa. Soprattutto l'allenatore può fare affidamento su un morale rinvigorito dal filotto di risultati utili. I ragazzi stanno tirando fuori veramente tutte le energie, siamo a fine campionato, non è semplice. Mi ha fatto un plauso ai ragazzi, allo stesso tempo però sappiamo che abbiamo solo vinto una battaglia. Sappiamo che per l'obiettivo ancora dobbiamo lottare, abbiamo ancora tante altre battaglie da dover fare, tre per l'esattezza, quindi come ho detto in altri momenti non facciamo calcoli, pensiamo solo a recuperare energie e a riprepararci al massimo per la prossima battaglia. Ha del clamoroso il cammino bianco-verde nelle ultime otto giornate, quarto ultimo a 23 punti dopo 27 turni, a meno 9 dalla salvezza diretta. Oggi il Monopoli è padrone del suo destino, la testa assicura all'allenatore e solo al Taranto. Potremmo gioire veramente solo quando avremo il risultato acquisito. Non dobbiamo fare, ripeto, calcoli, non dobbiamo pensare di avere aiuti esterni o aiuti dagli altri campi, noi dobbiamo andare dritti perché questa mentalità ci sta permettendo, secondo me, di risparmiare di energie, di non sprecare energie inutili e di concentrarci forte su quello che possiamo fare noi. Nota di colore, per la sfida del Veneziani è stato designato un arbitro di Torre del Greco, il signor Arena, scelta che nell'ambiente bianco-verde ha generato una riflessione. In un momento in cui la Turris si gioca proprio con il Monopoli la salvezza diretta, era così necessario creare pressioni su un direttore di gara con altri profili a disposizione? Grazie.